Musica Buongiorno, il 28 giugno sabato, benvenuti al primo appuntamento con la nostra informazione in regia questa mattina Lucio Felicita. In primo piano i problemi per la sanità molisana. Il piano sanitario regionale approntato dal commissario Adacta, nonché presidente della regione Frattura, è stato respinto. Non è chiaro come la regione voglia colmare il deficit da 210 milioni di euro, la motivazione del tavolo Massecci. Leggeremo le motivazioni e poi valuteremo la risposta di Frattura. Intanto potrebbe arrivare in Molise un nuovo commissario per la sanità, ci dice di più in questo servizio Giovanni Di Tota. Non ci siamo, ancora una volta sul fascicolo del piano operativo predisposto per riorganizzare la sanità in Molise. I tecnici del cosiddetto tavolo Massicci hanno apposto il timbro respinto. E così, come una bolla di sapone, svanisce in un sol colpo il disegno con il quale il commissario Adacta della Sanità, che poi è lo stesso presidente della regione, aveva ipotizzato il sistema sanitario regionale. Un sistema è evidente che non ha convinto i dirigenti dei ministeri della salute e dell'economia, per i quali quelle predisposte da Frattura e dal suo staff non sono misure sufficienti a uscire dal pantano. I conti non tornano, hanno osservato i tecnici al tavolo. Prima di tutto è stato evidenziato il piano, da una parte dimostra il pareggio, ma dall'altra non pianifica e non spiega in che modo vengono coperti i 210 milioni di euro di debiti che il Molise ha accumulato negli anni. Oltre al pregresso, secondo lo staff Massicci, il piano operativo può essere ancora migliorato. Leggeremo nelle motivazioni, è stato il laconico commento di Paolo Frattura, cosa ci chiederanno di fare, ma è chiaro, ha concluso il governatore, che questo nuovo schiaffone non ce lo aspettavamo e non prospetta nulla di positivo per il futuro. Il tavolo Massicci ha peraltro confermato i presupposti per il commissariamento e il probabile arrivo di un soggetto terzo che dovrà mettere le mani nella sanità regionale. Ancora più diretto il commento rilasciato dal subcommissario Nicola Rosato, che non ha esitato a puntare il dito in un'altra direzione. I cittadini, ha detto Rosato, i comitati e i giudici non hanno compreso che interferire in decisioni come quella che si sta discutendo a Roma finisce con il complicare le cose. Più si rinvia, è stata la conclusione, più aumenta il debito. Come se fino ad oggi tasse e tagli dei posti letto non le avessero subiti cittadini e comitati. Questi ultimi, peraltro, hanno messo all'indice uno degli indicatori in particolare, quello che lascia al pubblico poco più del 60% dei posti letto, per creare al comparto privato una provvista che sfiora il 40%. Un bilanciamento tra sanità privata e pubblica, che naturalmente non piace a chi opera in quest'ultima e che ha alzato le barricate chiedendo di rimettere in asse la bilancia, portando il rapporto almeno all'80% pubblico e 20% privato, come accade in altre regioni. La sensazione prevalente ormai è che il piano operativo debba rispondere a precise esigenze politiche piuttosto che contabili e organizzative. Quelli che Rosati ha definito impedimenti alla buona riuscita del piano e ai ritardi che la loro interferenza comporta si chiamano cittadini, medici, infermieri, sindaci e, è bene ricordarlo, malati. Giovani o anziani che siano, ed è a loro, prima di ogni altra cosa, che bisogna pensare quando un numero viene spostato a favore di un altro. Una grande marcia a cui parteciperanno tutti i sindacati, associazioni e cittadini da tutta la regione. Oggi a Campobasso con lo slogan Il Molise riparte dal lavoro. Il concentramento è previsto in piazza San Francesco. Alle 10 i comizi finali si terranno in piazza Gabriele Pepe. A concludere la manifestazione unitaria promossa dalle tre confederazioni sindacali sarà il segretario generale della CGL, Susanna Camusso. Allo zuccherificio del Molise il lavoro in corso per l'avvio della nuova campagna di produzione. Intanto i bieticoltori aspettano il saldo dei pagamenti entro il 7 luglio e chiedono garanzie per il futuro. Il servizio di Fabrizio Occhionero. Conto alla rovescia per l'avvio della campagna saccarifera allo zuccherificio del Molise. Lavori di manutenzione in corso dentro e fuori allo stabilimento di Contrada Perazzeto dove in questi giorni si controllano gli impianti e si faranno le prove dei forni calce. Il momento simbolico dell'accensione è previsto la prossima settimana mentre verso l'11 luglio si inizierà con il conferimento delle bietole. Secondo le stime la campagna si aggirerà sui 45 giorni e in fabbrica arriveranno circa 2 milioni di quintali di barbabietole provenienti da varie regioni. Intanto le associazioni bieticole aspettano entro il 7 luglio il saldo del 2013 dopo aver rinunciato a una fetta dei pagamenti in sospeso. Dalla prossima campagna ha spiegato Salvatore Montanaro dell'AbiCast ci aspettiamo il pegno sul 55% dello zucchero giornalmente trasferito. Garanzie dopo la firma di un accordo sofferto con l'azienda che dopo le dimissioni del manager Alberto Alfieri vede come interlocutore il procuratore speciale Nicola Baranello. Con la campagna che sta per iniziare restano le incertezze sul bando di vendita. In un anno quattro aste sono andate deserte. Nessuno al momento ha voluto comprare la fabbrica nonostante il prezzo sia sceso dagli iniziali 27 milioni a circa 20 milioni di euro. Intanto sulle voci circolate nelle ultime ore relative al rischio di annullamento della campagna saccarifera è intervenuto il procuratore speciale Nicola Baranello. La campagna si farà così come previsto e partirà l'11 luglio ha confermato a Telemolise Baranello pur ribadendo i problemi legati al prezzo dello zucchero che negli ultimi tempi è calato ancora. Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra le parti per fare il punto sulla situazione. Anche la parlamentare Laura Venitelli ha chiesto l'apertura di un tavolo urgente. Bene, con la nostra informazione ci fermiamo qui. Adesso la rassegna stampa. Iniziamo con il giornale del Molise.it In primo piano c'è la sanità. Roma boccia frattura salta il piano sanitario. Articolo a firma di Giovanni di Tota. Non ci siamo, scrive di Tota, ancora una volta sul fascicolo del piano operativo predisposto per riorganizzare la sanità in Molise. I tecnici del cosiddetto tavolo massicci hanno apposto il timbro respinto. E così come una bolla di sapone svanisce in un sol colpo il disegno con il quale il commissario ad acta della sanità che poi è lo stesso presidente della regione aveva ipotizzato il sistema sanitario regionale. L'articolo continua. Vediamo le altre notizie. Con la cultura non si mangia la denuncia di due studenti campobassani per salvare la biblioteca Albino. Le altre notizie. Siamo a Campobasso. Il 7 luglio il primo consiglio comunale dell'era battista. Parliamo anche di zuccherificio. Avete sentito anche nel nostro notiziario. Parte la campagna 2014. Visita di Papa Francesco a Isernia. Come muoversi in città. Il 5 luglio c'è il programma. È stato diffuso il programma. Parliamo di ricostruzione. Incontro a Bonefro. Tensione tra i sindaci del cratere. Il consigliere regionale Ciocca. Poi la cronaca. Incidente tra Aururi e Larino. Restano gravi le condizioni della neonata trasportata al bambin Gesù. Si parla ancora di cronaca. Legata anche alla sanità. Morte di Alberto Verso. Chiesti 22 anni di reclusione per Cristiano Uscher. Poi la rubrica editoriale. E come sempre c'è anche le notizie che arrivano da Regione, dall'Italia e dal mondo. Andiamo su primo piano. Molise che dedica l'apertura alla sanità. Molise bocciato. Frattura rischia il commissariamento. Lui replica. Tecnici arroccati. L'ultima parola aspetta al governo. Ennesima insufficienza rimediata al tavolo. Massicci nel mirino. I 210 milioni di debiti. Pregressi senza copertura. A Termoli cola a picco il prezzo dello zucchero. Campagna in bilico. Abbiamo visto che poi insomma c'è stato questo intervento da parte del responsabile a Telemolisetto che continuerà senza problemi. La Niuco di Pantano Basso deve decidere se vale la pena accendere i forni. Disoccupazione al top in piazza per il lavoro che non c'è. Anche la segretaria Camusso al corteo di CGL e Cisle Will questa mattina a Campo Basso. Andiamo sotto la testata. Taururi neonata ancora grave ricoverata al bambin Gesù di Roma. Ore d'ansia per la piccola coinvolta giovedì in un brutto incidente. La biblioteca Albino non chiude. Arriva la proroga di un mese. De Matteis rassicura faremo il possibile per salvarla. Sulla destra aspettando Francesco sale l'attesa per Bergoglio. Quasi pronto il palco al vecchio Romagnoli. Definito il piano traffico a Campo Basso va de Mecum a Isernia. Le altre notizie. Restiamo ad Isernia. La città accoglie il nuovo vescovo. Prove generali in vista del 5 luglio. La solenne cerimonia in cattedrale alle 18.30. La viabilità da vasto. Riaperto il viadotto sulla statale 16. Finiti i disagi. Ponte è stato messo in sicurezza. Adesso lo sport. Calcio di serie D. Lupi per Rucci. Resta alla guida del club. Eccola. È società a responsabilità limitata dei tifosi. Stadio. Lavori. Al via. L'appello. Siamo a termoli. Gente di mare. Dice il titolo. Torni al comune dopo un nuovo summit con la società. Da primo piano adesso passiamo al quotidiano. Anche qui come potete vedere in apertura c'è la sanità. Troppi debiti. Sanità malata. Programmi operativi. Il tavolo massicci contesta l'elevato disavanzo ma approva la struttura del piano. Chiesta maggiore chiarezza sulle pendenze. Osarà commissariamento. In alto la camusso guida la marcia per il lavoro. Sindacati in piazza. Oggi invasione pacifica. Campobasso per rivendicare i diritti. Sulla destra il Papa esterni a programmi e dettagli della visita. Andiamo ai richiami a centropagina. Biblioteca Albino chiusura rimandata di un mese concessa una piccola proroga. Poi toccherà trovare una soluzione. Da Bonefro post sisma finita l'emergenza eppure i soldi. Ieri incontro per ribadire che la ricostruzione è appesa a un filo. La cronaca da Trivento vandali e ladri un paese sotto assedio una fontana distrutta e due persone fermate per un furto. Andiamo a Termoli trasferita a Roma la neonata ferita nell'incidente condizioni critiche che hanno reso necessario un altro trasferimento. Sempre dalla città adriatica superare la crisi guardando al di là dell'Adriatico. Ieri incontro con Api Acem e Amies. Anche qui il calcio Tavecchio presidente della Lega di Dettanti in poll per la poltrona di presidente della FIGC Serie D Lupi nasce la nuova società ratificata la SRL per quanto riguarda il mercato si profila il ritorno di Todino vicino Fusaro. I tifosi del Termoli Cesare il presidente dia il titolo al sindaco. Chiudiamo anche il quotidiano andiamo uno sguardo adesso alla gazzetta anche qui come vedete in evidenza c'è la sanità dammi una mano tengo famiglia e c'è la foto del presidente Frattura. L'Oscar del giorno al prefetto di Campobasso Francesco Paolo di Menna le ultime ore ieri c'è stato l'arrivo che ha raccomandato ordine e sicurezza per definire gli interventi in vista dell'estate il tapiro del giorno va invece all'assessore regionale Michele Petraroia. Ed ora siamo sui quotidiani nazionali iniziamo con il Corriere della Sera ai temi europei in primo piano Europa flessibile ma non troppo patto sulla crescita Renzi apertura a chi fa le riforme intanto Juncker diventa il presidente della commissione accordo di libero scambio con l'Ucraina centropagina un'onda bianco-rossa Milano soffre vince c'è lo scudetto del basket lacrime per l'ultima partita di Siena vediamo anche il calcio Buffon largo ai vecchi siamo migliori la delusione dei mondiali le generazioni intervista al portiere della nazionale passiamo adesso a Repubblica anche qui analoga notizia in apertura Unione Europea Renzi strappa il patto sulle riforme e gela l'ipotesi letta Juncker eletto alla commissione no di Cameron e Orban il premier c'è già Draghi non si toccano le altre presidenze e poi la cronaca siamo a Scampia alla rivincita del quartiere napoletano Ciao Ciro nostro eroe in migliaia ai funerali di Ciro Esposito il tifoso ucciso un'altra notizia che riguarda Papa Bergoglio salta la visita al Gemelli ansia per la salute del Papa il pezzo attacca così il Papa è molto stanco e salta all'ultimo minuto la programmata visita all'ospedale Romano Gemelli passiamo alla stampa l'Unione Europea apre a Renzi sui conti flessibilità in cambio di riforme Draghi al premier patto di stabilità sufficiente concluso il vertice Juncker è stato nominato presidente della commissione l'ira di Cameron ve ne pentirete ricordiamo Cameron ha votato contro in alto ci sono le classifiche delle università italiane a Verona l'Ateneo che attira soldi privati a Napoli travolti dal declino della città chiudiamo anche la stampa per passare al fatto quotidiano Renzi salva la Boschi e dice l'immunità l'ho decisa io dopo l'intervista di Roberto Carderoli al fatto Palazzo Chigi conferma dice lo scudo impunitario ai senatori non eletti l'ha concordato il presidente del consiglio in una riunione a Palazzo Madama centropagina la Merkel in Goia Juncker il premier sotterra letta l'Italia promette riforme per ottenere più flessibilità sui conti si parla chiaramente del vertice dell'unione europea e adesso il tempo vediamo l'apertura c'è un'inchiesa sul centro storico di Roma a Roma abusiva abbiamo contato tutti i v cumprà sulla destra Renzi scaricaletta non l'ho mai proposto alla presidenza dell'unione europea intanto Juncker guiderà la commissione in alto da D'Angelo alla Carogna i funerali di Ciro il tempo pubblica la mappa degli ultra intanto parte la caccia al romanista scrive il quotidiano della capitale andiamo sul giornale la Rai ordina paga e taci il canone bis vediamo un po' l'unica risposta alla rabbia della gente scrive il giornale è una minaccia di querela ma noi andiamo avanti nomine europee intanto lo schiaffo di Renzi a letta irrita il colle poi si parla di Juncker che viene definito il cameriere della Merkel passa il suo candidato Juncker designato presidente della commissione UE chiudiamo anche il giornale e adesso andiamo a vedere l'apertura di Libero i conti delle pensioni chi perde e chi guadagna dal professionista al contadino un dossier lancia l'allarme tra entrate uscite previdenziali c'è un buco di 20 miliardi il fatto è che molti versano meno di quanto incassano e poi ci sono i numeri categoria per categoria avvenire avvenire titola così in apertura unione europea sia la flessibilità per chi fa le riforme il premier Renzi soddisfatto il documento di Bruxelles parla di crescita Merkel il problema dell'Italia è il debito dice non il deficit intanto Juncker indicato come presidente della commissione passiamo adesso all'unità analoga apertura come un po' tutti i quotidiani nazionali avete visto unione europea più riforme più flessibilità il consiglio europeo disegna Juncker alla guida della commissione e avvia il dopo austerity Renzi vertice tosto ma è un successo e sulle nomine nessuno ha fatto il nome di Letta a centro pagina Roma allarme bambini poveri 30.000 minori in stato di indigenza assoluta e c'è un appello del consiglio comunale straordinario chiudiamo anche l'unità andiamo sul quotidiano napoletano il mattino c'è questa foto con una folla immensa la morte di Ciro non sia vana tra i 30.000 del funerale anche dei laurentis e insigne il CONI ogni 25 giugno un premio alla memoria e poi c'è l'appello della madre durante i funerali la morte di Ciro appunto non sia vana anche il sindaco di Napoli dei magistris prefetto e questore di Roma paghino ha detto il primo cittadino e adesso andiamo sulla gazzetta dello sport che oggi dedica spazio al basket Milano urla di gioia scudetto dopo 18 anni l'Olimpia Doma Siena dopo una gara 7 tiratissima e si laurea campione d'Italia di basket per la 26esima volta vediamo anche con i mondiali sulla spalla la riscoperta delle Americhe gli Stati Uniti al top Europa in crisi e poi c'è il caso Chiellini perdona su Ares per il morso e dice e lo stop è troppo eccessivo il mercato sfida sui turbe la Juve avanti reazione Milan ecco le offerte mercato ancora Toir ha detto sì l'Inter e Mazzari insieme fino al 2016 bene come sempre con la gazzetta concludiamo l'appuntamento del mattino grazie per averci seguito vi auguro una buona giornata e vi ricordo alle 14 il TG con tutte le ultime notizie arrivederci grazie per aver guardato